Saranno più o meno 6 milioni a capoccia. E che ci faremo con tutti questi soldi? Ma io... Io mi compro un Van Gogh originale così non rubo più. Brava, mo. Ah, ma io mi piacerebbe fare il giro del mondo. E che bella cosa. Io non lo so, sto indecisa tra un jet e un elicottero. Tu che dici, ma? Ah, airjet? Con l'elicottero mi sei rovinata e messa in piega. Ah, raga, io ho deciso, basta cazzate. C'ho un progetto serio per la prima volta in vita mia. Mi compro la Roma. Ah, 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 ah. Mi sa che non ti bastano, Renatino. Ah, jet. Il giro del mondo, la Roma. Oh, ma fra un po' li state senza la lira, lo capito? Poi che farete? E che facciamo? Ci metteremo a lavorare? Ah, oh, non esageriamo, eh? Fra un paio d'anni al massimo, starete con le pezze al culo come t'alza. Perché dici starete? Perché te diri fuori? Mi dirò fuori, mi dirò fuori perché io no. Io che faccio? Mi pio una mezza mionata, eh? Mi prendeva a me qualche sfissio, qualche spesuccia, il resto lo lascio qua. Ah. Ah. Pure io. Ma in che senso? Non ho capito. Eh, perché se l'ho capito non è che la vera fortuna non è aver trovato sto tesoro. È la banda, siamo noi! Ma sì, ma c'ha ragione Moreno, oh! L'avevamo sfondati tutti, ma insieme siamo fortissimi. Ma in effetti... E che cosa vorreste fare? Semplice. Ognuno lascia la sua quota e investiamo su affari ancora più grossi. Semplice.